Sono Luca Giacchele, vengo da Brescia e sono iscritto a Biotecnologie Vegetali. Sono venuto a conoscenza del Sant'Anna e della scuola e tutti i laboratori dal quarto anno dei superiori, grazie a un orientamento online. Fin da subito mi sono appassionato a questa scuola perché mi ritrovavo in quel progetto formativo, in quella visione che la scuola offriva, che la scuola offre. A ottobre, quando sono entrato finalmente alla scuola, ho incontrato tutti i nuovi compagni che sono andati a far parte della famiglia insieme a me del Sant'Anna. Sono contento di farne parte perché è un ambiente ricco di impulsi, di spinta verso il miglioramento di ciascuno. Personalmente mi piace anche la parte della particità e Sant'Anna non è solamente una classe dove si insegna teoricamente, dove si sta a studiare tutto il tempo sui libri, ma si va anche in laboratorio per quanto riguarda noi di Biotecnologie, si va in laboratorio e si lavora sul campo, si ha esperienze sul campo. Per questo ringrazio la fondazione Bernardo Villagi-Caber che ha finanziato la mia borsa di studio e che mi ha permesso di realizzare il mio sogno.